Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura la lunga intervista all'onorevole Luigi Gallo, deputato per il Movimento 5 Stelle. Tema principale, i finanziamenti in arrivo per la rivalutazione delle bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio. Un'occasione che il Comune di Torre del Greco non può perdere. Passiamo ora all'intervista al sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba sulla lettera inviata al prefetto, al questore e al Ministero dell'Interno circa la necessità di nuove unità per il controllo anti-Covid. Per il sindaco i primi cittadini sono stati lasciati soli a gestire l'emergenza. Passiamo ora alla cronaca con l'arresto di un cittadino di origine cinese che ha tentato di corrompere i finanziari che erano arrivati nel suo magazzino per un controllo. Passiamo ora all'emergenza rifiuti a Torre del Greco. Le strade del centro anche questa mattina risultano sporche a causa soprattutto dello sciopero indetto dagli operatori della nettezza urbana nella giornata di oggi. E sempre riguardo ai rifiuti, i cittadini di Lavatroia denunciano il degrado in cui versa da giorni la zona. Questo è altro nei nostri servizi. Siamo in compagnia negli studi di TV City dell'Onorevole Luigi Gallo. Ho finanziamenti in arrivo per i siti UNESCO, per il Parco Nazionale del Vesuvio e anche per il Comune di Torre del Greco. Sì, il Comune di Torre del Greco ricade nel distretto Siti UNESCO grazie al Miglio d'Oro e avrà la possibilità di presentare progetti contro i cambiamenti climatici, progetti per la mobilità elettrica e sostenibile e progetti per l'energia sostenibile. Quindi ci sono 73 milioni in tutta Italia su questi siti e chiediamo all'amministrazione di fare la propria parte per accogliere questa opportunità di trasformazione importante in questo momento, visto che tanti fondi europei, parliamo di 209 miliardi, oltre a quelli stanziati da questo governo, riguarderanno quei sassi importanti sull'ambiente. A partire da quando si potranno presentare i progetti e poi quali sono i tempi previsti per la realizzazione? Il bando è uscito a febbraio, la prima presentazione dei progetti sarà per marzo, quindi naturalmente come sempre il Movimento 5 Stelle dà piena disponibilità a collaborare nella progettualità, nel costruire dei percorsi fruttuosi per l'economia di Torre del Greco e l'amministrazione non può perdere l'opportunità come ha fatto per esempio con il famoso centro polisportivo cittadino che non è mai partito. Questa amministrazione comunale continua a perdere opportunità? Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è così. Faccio un esempio, conosciamo benissimo il nostro sito storico di Villa Sora e dal 2018 che la sovrintendenza è pronta a investire risorse su questo sito e per restaurarlo e per riqualificarlo e valorizzarlo, anche creando delle imprese, ha chiesto al Comune solo di realizzare un progetto per l'accesso al sito attraverso un progetto di accesso a una strada che porta al sito. Ci sono già dei progetti che erano nei cassetti del Comune, ma ad oggi la sovrintendenza non ha avuto nessun progetto dal Comune. Questo ritarda naturalmente il rilancio economico della città. Parlavamo di finanziamenti in arrivo anche per il Parco Nazionale del Vesuvio. Sì, c'è una quota ristori speciali per le micro e le piccole imprese del territorio, le guide turistiche e le guide escursionistiche, perché il Ministro Costa ha creato la zona economica ambientale per i parchi nazionali. Questa è un'altra delle opportunità che la nostra città ha, però deve scegliere una strada, la strada della rivoluzione della green economy, la strada del turismo e la strada della cultura. Sono gli assi fondamentali su cui si può disegnare lo sviluppo di questa città. Grande attenzione anche per il sito in cui ci troviamo, quello dei Molini Meridionali Marzoli. C'è una progettualità in corso? Sì, abbiamo sventato anni fa la privatizzazione di quest'area. Oggi c'è una vocazione educativa e culturale, perché si dà a un istituto nautico, che è un indirizzo storico per il nostro territorio, una nuova casa, la casa degli ex Molini Marzoli. Abbiamo avuto interlocuzioni con la sovrintendenza, abbiamo avuto interlocuzioni con la città metropolitana e il sindaco, in questo caso l'opportunità è stata presa dall'Aggiunta, quindi noi quando si fanno le cose buone lo diciamo, è stata presa dall'Aggiunta e speriamo che adesso tutti gli atti amministrativi, dal PUC al DUC, verranno realizzati e portati a compimento. A fronte dunque di queste novità, di questi nuovi finanziamenti, sarà fondamentale comunque la sinergia? Io tranquillamente chiamo il sindaco, lo sento quando ci sono dei progetti per la città e lo stimolo a intervenire. Naturalmente ci vuole anche una tensione politica, lo dico chiaramente a tutti i cittadini, bisogna fare in modo che anche i cittadini capiscano che le opportunità sono per l'economia, le opportunità sono per il lavoro sul territorio, le opportunità che tutti dobbiamo chiedere alla politica. Questo territorio dunque può riscattarsi? Può riscattarsi, è il momento di riscattarsi perché ha tante opportunità. cadiamo nel grande progetto Sarno e si possono riqualificare i famosi alvei che attraversano la città e portano dei triti e spazzature in spiaggia e a mare. Cadiamo nel Parco Nazionale del Vesuvio, è già raccontato le opportunità che possiamo raccogliere, cadiamo nel grande progetto Pompei e nel Miglio d'Oreo, dove avremo opportunità economiche da punto di vista turistico e culturale. Basta esserci. L'ultima volta che si è fatto un incontro con i comuni e il ministro Franceschini, il nostro sindaco e nessun delegato c'era al tavolo. Sindaco Palomba, una lettera al Ministero dell'Interno, alla Questura e alla Prefettura di Napoli per chiedere maggiori unità per rafforzare i controlli in questa battaglia contro la pandemia. Una lettera assieme ad altri sindaci della zona vesuviana, Porti, Cercolano, San Giorgio e altri ancora, abbiamo pensato di scriverla perché noi da soli c'è poco da fare. I controlli sono importantissimi, sono fondamentali, ma abbiamo chiesto anche l'ausilio di forze dell'ordine tipo l'esercito o rafforzare quelle esistenti. Perché i controlli? I controlli perché ultimamente noi stiamo verificando che ci sono le varianti proprio nelle zone del Vesuviano, varianti che toccano anche Torre del Greco. Io nell'ordinanza di chiusura mi è stato specificato che Torre ci sono queste varianti del Covid e quindi sono delle preoccupazioni che abbiamo noi come amministratori, ma poi tutti i cittadini. E i dati della città di Torre del Greco destano ancora preoccupazione. L'ultimo bollettino parla di 698 cittadini in isolamento domiciliare e 43 ospedalizzati. E' salito a 105 il numero dei decessi. A breve intanto partirà la campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità. Dobbiamo stare in un'attenzione massima, sperando quanto prima. Ormai noi abbiamo dato anche la sede della Santissima Annunziata per i vaccini. L'Aslo ci sta lavorando. Pare che 7-8 giorni anche con l'arrivo di questi vaccini, che poi quello è l'elemento fondamentale, perché possiamo essere organizzati e strutturati, però se non arrivano i vaccini c'è poco da fare. E questa è l'unica soluzione. Quanto riguarda le scuole, pensa che verrà prorogata la chiusura? I dati li ho lunedì. Certamente come stiamo... Non è che abbiamo un tasso... Noi siamo un 4 punti percentuali sulla media. Ci sono realmente tante zone che addirittura c'è il doppio, il triplo. La mia preoccupazione è stata già la prima chiusura, la questione di due plessi, ma anche tre, che noi abbiamo dovuto chiudere per il Focolai, la morte dell'insegnante. Io vedo lunedì di guardare ancora i dati, vediamo ancora i dati. Ricordo che lunedì scorso abbiamo avuto a Torre 127 casi, quindi un botto enorme. Aspetto lunedì e poi deciderò con calma decisioni che non prendo da solo, la prendo con l'Asola, la prendo con il mio dirigente, che poi alla fine dobbiamo essere noi a prenderci questa responsabilità quando ci sono queste tasse forse a carattere regionale di chi praticamente conosce e capisce molto più di un sindaco perché sono dei virologi, sono persone che fanno questi lavori, ma alla fine ci dicono con molta semplicità il sindaco decidi tu. Ecco la lettera dei sindaci che siamo diventati l'ultima ruota del carro con delle difficoltà. Ci hanno dato queste responsabilità al di sopra nelle nostre possibilità e quindi io chiedo anche capiteci ai cittadini. Molto spesso sicuramente sbagliamo, sbagliamo sempre, però alla fine siamo soli a decidere. Attenzione. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto nel quartiere La Maddalena un 48enne di origine cinese per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo a sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Si trattava di una pattuglia dei baschi verdi del gruppo pronto impiego che nel corso dell'attività di controllo economico del territorio aveva notato la presenza di un soggetto che con fare circospetto muoveva involucri voluminosi all'esterno di un negozio. Le fiamme gialle hanno prima riscontrato che all'interno erano presenti scarpe con marchi contraffatti. Successivamente hanno esteso le attività svolgendo una perquisizione nei locali commerciali del cinese. Rinvenute in tal modo centinaia di migliaia di scarpe ed etichette con marchi Ossoconi, Fila, New Balance, Nike, Vance, Valentino, D-Squared, Blower, Timberland, Alexander McQueen, Versace, Gucci, Adidas, Contraffatto, scarpe senza marchio dello stesso modello di quelle con il logo contraffatto. Negli stessi locali scoperto anche il vero e proprio laboratorio del falso utilizzato per la produzione illecita delle scarpe. Durante le operazioni di controllo il titolare del negozio nel chiaro tentativo di corrompere i finanzieri ha infilato 850 euro in contanti nella tasca della giacca di uno dei due esclamando prendi questi soldi e non sequestra niente, andate via e prendetevi un caffè. Le fiamme gialle partenopea hanno proceduto all'immediato arresto per istigazione alla corruzione dell'imprenditore denunciato anche per contraffazione e ricettazione nonché a sequestro di oltre 140.000 tra etichette e scarpe sprovvise di qualsiasi certificato di conformità. Anche questa mattina Torre del Greco risulta sporca a causa di troppi rifiuti depositati in strada e mai raccolti. Lo sciopero indetto per la giornata odierna dai dipendenti e la nettezza urbana ha paralizzato la raccolta cittadina. In molti casi l'immondizia è stata depositata correttamente negli appositi bidoni in particolare la carta che andava conferita ieri sera tuttavia il cumulo dei rifiuti non raccolti si è riversato sui marciapiedi per poi sporcare ogni strada. Figurano anche pezzi di mobilio che in attesa della raccolta straordinaria disposta per alcuni rifiuti ingombranti sono ancora in strada. Vogliamo essere trattati come tutti gli altri cittadini è questo il grido che si erge dalla periferia di Torre del Greco. intere zone abbandonate sommerse di rifiuti derubate dell'arredo urbano cassonetti mai consegnati ritiro della differenziata non effettuato quotidianamente ingombranti di ogni genere mobili televisori ed elettrodomestici vari senza dimenticare i vari pezzi automobilistici presenti tutto ciò dato dalla situazione di totale abbandono delle strade nella periferia torrese dotate sì di illuminazione ma che mai è stata funzionante tombini ascensori e lampioni derubati delle loro componenti dagli sciacalli di periferia che nell'oscurità si aggirano e delinquono in questa zona purtroppo poiché è una zona isolata noi praticamente siamo in una condizione veramente scabrosa qui arrivano gente da tutte le parti a scaricare ingombranti che andrebbero scaricate nelle zone designate dal comune però siccome è isolato la sera c'è poca luce e addirittura vengono anche di giorno questa è la situazione vi sembra che noi che paghiamo le tasse dobbiamo stare in queste condizioni scusate se agli altri paesi questo non avviene perché qui deve succedere questo in città molte strade sono pulite perché insomma è il centro città però perché qui non deve esserci la stessa manutenzione una periferia che non è neanche dotata dei cassonetti appositi su cui in cui depositare appunto i rifiuti sì effettivamente neanche i cassonetti hanno messo qualche volta ne hanno messo uno uno giusto uno e poi se lo sono venuti a riprendere io non capisco perché oltre ai rifiuti che si accumulano ovviamente nelle strade non essendoci dei punti di ritiro non essendoci dei cassonetti ci sono anche numerosi ingombranti elettrodomestici sì addirittura gomme di macchine addirittura diciamo elettrodomestici televisore ogni tipo di cosa per cui mi sa che si deve fare qualcosa io chiedo all'autorità comunale chi è preposto che si dia una mossa perché non si può andare avanti così non è giusto che noi siamo in queste condizioni solo perché siamo in una strada un po' più diciamo più in periferia come anche questa strada nuova che di sera non c'è una luce non è possibile che fanno una strada hanno messo le luci ai primi tempi si sono rubati i fili non so chi e oggi siamo nelle condizioni che non si può neanche camminare di qua che non c'è una luce accesa non è possibile non parliamo non parliamo poi del cavalcavia il cavalcavia è impossibile è impossibile tutto addirittura hanno rubato i ferri hanno rubato quindi voglio dire abbiamo delle strutture dobbiamo anche mantenerle aree comunque come diceva lei più di periferia più nascoste se vogliamo dire che diventano aree fertile anche per quella che è la criminalità ma sicuramente figuriamoci anche qui voglio dire si vedono persone che non voglio non voglio neanche neanche commentare purtroppo cavalcavia è solitario fanno un po' quello che vogliono noi i cittadini chiaramente vorremmo essere uguali agli altri perché dobbiamo essere discriminati in questo modo grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484 e con questo è veramente tutto io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi grazie a tutti